In quest'epoca di social network, dove la malattia delle visualizzazioni è sempre più contagiosa, HIV, dove abbiamo tutti la testa bassa sul cellulare, siamo pieni di amici virtuali a cui mandiamo like, selfie e tweet, la domanda che mi faccio è questa, quanto conta l'immagine? Oggi che tutti facciamo a gara chi appare di più? Se bastasse una buona canzone come Eros, farei solo canzoni, ma qua ci pagano per fare le foto, Il contrario degli autovelox, è sempre più raro trovare chi riesce a far parlare la propria arte rimanendo nell'ombra, ed è da queste persone che trago ispirazione, non fatemi foto, datemi ascolto, e alla domanda quanto conta l'immagine, la mia risposta è una sola, Banksy. Grazie.